Ehi salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio della Insanity OG di Crash Bandicoot 3 Warped e finalmente siamo arrivati verso il finale di gioco verso comunque il finale definitivo della Insanity OG di Crash Bandicoot 3 Warped ok speriamo che non mi creano più problemi sia uca uca del cortex dai che poi sottengo le ultime rigue d'oro probabilmente credo che riuscirò finalmente ad ottenere il secondo platino eh che il mio primo platino è stato proprio su remake di Spyro 1 ok qua dobbiamo stare attenti perché questi perché questi qua imitano la giravolta di Crash Bandicoot cacchio aspettiamo che esplodano e cadi Meldan se non cade sono cazzi nooo vaffanculo all'altro proprio si sembra che si scondano non mi sbaglio aspettiamo che esplodano meno male dai ok dai l'ultimo colpo dai speriamo che va tutto bene e di non mandare tutto no porca troia ok per poco che ho mezza e ok ce l'abbiamo fatto no no impossibile intrappolato l'interno di nuovo no 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 noi siamo usciti tutti interi e ok questo era proprio il finale definitivo di ovviamente credo che ci sono ancora parecchie cose da fare tipo tipo il livello segreto di livello segreto della ensam eh livello segreto che affronterò al prossimo ok dai queste erano le il finale definitivo della ensam di oggi di cash bandicoot da vostro capone smettut ci becchi e credo che poi al prossimo episodio faremo questa dinomite che farò vedere dove si trova come si fa a cedere a livello segreto ok da vostro capone smettut e ci becchiamo alla prossima ciao